Qui a Lignano abbiamo 38 nazioni, compresa l'Italia, la delegazione più numerosa è quella del Brasile, che ha portato tutta la sua nazionale maggiore, siamo molto contenti di questo. Allo stesso tempo abbiamo anche nuove partecipazioni come l'Uganda, abbiamo nazioni provenienti da tutto il mondo, perché abbiamo l'America Latina, abbiamo l'Asia, abbiamo anche l'Africa e quasi tutta l'Europa. Quindi è sicuramente una grandissima soddisfazione per noi che stiamo diventando un punto fermo nel circuito di World Series. Le prestazioni che abbiamo avuto sono di altissimo livello, infatti abbiamo avuto un record delle Americhe questa mattina e numerosi record italiani, quindi la piscina di Lignano si dimostra ancora una volta una piscina molto valida e sicuramente ce ne aspettiamo molti altri nei prossimi due giorni.